Oggi e ieri due partite abbastanza agevoli contro giocatori non di altissimo livello, come ha giocato Simone? Ieri faceva non benissimo, ma sicuramente anche forse dato dal fatto che appunto pensava che queste due partite non fossero particolarmente difficili. Oggi mi sembrava un po' meglio tranne un po' il primo set, il game che è andato, era 4-0, che gli ha fatto il break 4-1, poi per il resto mi sembra abbastanza bene. Non ha servito bene, sta servendo mai. Adesso con Fabiano Simone è comunque favorito per entrare nel tabellone principale? Sì, sulla carta sì, in campo poi magari vediamo domani. Sicuramente per essere comunque le qualificazioni di un ATP sono abbastanza agevoli, poi in campo può succedere di tutto, vediamo domani. Però oggi e ieri due partite abbastanza agevoli che sono finite abbastanza bene, come ti sei sentito in campo? Non benissimo, adesso non so se è per la concentrazione o cosa, però non ho giocato benissimo. Anche se è difficile giocare bene quando gli altri non ti danno molto ritmo, ti danno una balla dentro, una fuori. Non lo so, speriamo domani di sentirmi meglio, sicuramente la concentrazione salirà. Puc o Fabiano c'è già giocato? Fabiano tipo 3-4 anni fa, quindi non lo so e Puc penso di averlo visto una volta a giocare, so che c'è un buon servizio. Adesso faccio la doccia e poi li vado. Sei comunque favorito? Oddio, nel tennis si partizzerà 0-0 sempre, quindi non lo so, spero di entrare, di fare un buon match, poi vediamo.